Siamo con mister Tony Alponsi di Sant'Antonio, una finale purtroppo amara che però comunque non toglie quello che si è visto di buono durante il torneo. No, abbiamo fatto un ottimo torneo, non siamo arrivati alla finale con tutti gli effettivi, ma diciamo che ce la siamo giocati soprattutto il primo tempo. Poi alla fine dopo il terzo gol abbiamo avuto un crollo diciamo abbastanza normale, complimento alla squadra avversaria, ottima squadra. Credo che le due squadre che si sono trovate in finale hanno meritato questa finale e niente, sarà per il prossimo anno e complimenti a provvedere oggi per questo torneo. Che voto dà la sua squadra complessiva del torneo? Io dò 10 a tutti i ragazzi e alcuni non più giovanissimi ma ancora con tanta voglia di giocare, tra cui anche Guido Di Fabio che oggi non ha potuto giocare per infortunio, Ottavio Palladini, Massimo Mignano Zazzetta, per non parlare anche dei vari Camilli, Pignotti. Un saluto ad Addari che oggi non c'è e mi complimento con lui personalmente per la vittoria in Coppa Italia e anche per la vittoria di oggi. Speravamo di fare questa partita al completo, non l'abbiamo fatta però diciamo una partita in Gagliardo che abbiamo giocato alla pari fino a 10 minuti della fine. Grazie.